Comunicazione di Reggiunta Comunale nel 2017-2011 di prelevamento della Fondo di Riserva non è altro che una comunicazione di quello che è avvenuto a fine dicembre con il prelevamento della Fondo di Riserva per una somma complessiva di €1.180 all'integrazione degli interventi specificati nel prospetto contatto legato all'esempio dell'italazione performata e parte integrata e sostanziale della stessa. Di questo non c'è niente.